Covid-19 in Sicilia, 383 nuovi positivi, 20 decessi, 738 guariti a Siracusa, 37 casi. L'isola rimane al terzo posto in Italia per numero di contagi, contestualizzando 383 nuovi positivi su 18.104 tamponi processati, con un'incidenza di circa 2,1%. La rete dei nuovi contagi registra tra le province Catania, 117, Palermo, 59, Messina, 46, Grigento, 40, Siracusa, 37, Trapani, 34, Enna, 17, Ragusa, 15, Caltanissetta, 18. Nelle ultime 24 ore, i decessi sono stati 20, portano il totale a 5.798. Il numero degli attuali positivi è di 11.340, con una diminuzione di 375 casi. I guariti sono 738, nelle strutture sanitarie siciliane i ricoverati sono 616, 23 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive 81, 5 in meno rispetto al bollettino precedente. Una nuova terapia con anticorpi monoclonali contro l'asma grave è disponibile al Policlinico di Messina e ha l'obiettivo di rendere i pazienti autonomi, soprattutto in questo periodo pandemico, ed evitare che si reichino in un ospedale ogni mese per ricevere la somministrazione. La novità consiste in una penna pre-riempita che consente al malato un'autogestione con una semplice iniezione. In Italia a soffrire d'asma sono circa 3 milioni di persone, circa il 10% è colpito dalla forma grave che si caratterizza per crisi particolarmente serie, al punto da costringere ogni anno 4 persone su 10 a ricorrere alle cure del pronto soccorso. In Sicilia si calcola che i pazienti asmatici siano circa 500.000, dei quali circa il 5-10% affetto in forma grave, che si manifesta con fame d'aria ed episodi di importante difficoltà respiratoria. Negli ultimi anni la ricerca scientifica e farmacologica ha ottenuto significativi risultati per la gestione di queste forme di malattia. Una delle novità indicate per la cura delle forme gravi di asma allergico e osinofilo è un anticorpo monoclonale, Mepolizumab, sviluppato anche in una formulazione inserita in un nuovo dispositivo, una penna che consente di tenere la crisi sotto controllo tramite una semplice iniezione da fare tranquillamente anche a casa.